È sempre una bella giornata, quella in cui il sindaco, ovviamente in rappresentanza di tutta la comunità, porta l'augurio, un pensiero al primo nato, al primo nato della nostra città, della nostra comunità, alla famiglia, al piccolo Riccardo nell'occasione odierna, ma è anche l'importanza di un messaggio di fiducia e di speranza di tutta la comunità, peraltro è anche l'occasione per fare il punto, seppure su dati provvisori, relativo ai dati della natalità, che nel corso del 2023 hanno fatto registrare una sostanziale situazione di stallo, di mantenimento rispetto all'anno precedente, quindi si è ormai interrotta l'emorragia sul piano della denatalità, che purtroppo comunque continua a far registrare un saldo negativo rispetto alla mortalità, ma nonostante questo saldo negativo i dati provvisori ci dicono che sul piano dei residenti si ricomincia a crescere, i dati sono ancora provvisori, quindi attendiamo quelli definitivi, ma è evidente che nonostante questo scarto negativo il numero dei residenti crescono, legato in parte anche alla ricostruzione privata che ha visto nel corso di questi anni una crescita importante, ma una città che comincia a crescere, a ripartire, come ho detto qualche giorno fa nel messaggio di fine anno, ha compiuto la rinascita e adesso il 2024 deve essere l'anno della crescita.